Che Berlusconi stia per cedere il passo ormai è una cosa acclarata, si tratta di ore, qualcuno dice per fino di minuti. Il punto però non è quello, quello è un fatto, il grande fatto di questa legislatura, il grande fatto che connota la situazione politica in una nuova tempesta di mercato che riguarda il differenziale tra i nostri titoli e i titoli tedeschi. Il punto vero è un altro, il punto vero è per che cosa dimettersi, in relazione a quale progetto, che cosa fare di sé, che cosa fare di tutti questi anni e qual è la vera posta in gioco. La vera posta in gioco, questo giornale ha cercato di dire qual è, la vera posta in di dirigere il paese, di guidarlo, le regole adatte a un sistema maggioritario in cui il popolo sceglie chi governa, esprime un mandato su un programma. Questa è la posta in gioco, qualunque soluzione mascherata dall'emergenza che non siano le elezioni subito e le elezioni ponendo agli italiani il vero problema, che è il vero problema su cui si è abitata anche la crisi finanziaria per metà reale, per metà taroccata del debito pubblico, del debito sovrano italiano, è proprio quello. Un Presidente del Consiglio che ha un Ministro dell'Economia il quale non solo non gli risponde ma lo irride, lo boicotta, non può licenziarlo. Questa è una piccola regoletta senza la quale il maggioritario è una risibile cosa. Eppure è su questa regoletta che si è impigliata la strategia per la crescita che Berlusconi a un certo punto aveva ritirato fuori come unica e tempestiva soluzione della crisi italiana. È per questo che noi siamo in balia, come si dice, dei mercati e del direttorio franco tedesco, è per questo che abbiamo perso credibilità in Europa e nel mondo. Allora, se vogliamo fare un governo d'emergenza che tiri fuori una patrimoniale e che con l'ausilio di qualche tecnico e di molti pasticceri politici ci riproponga le stesse regole, lo stesso modo di comandare, gli stessi equivoci ideologici, la stessa formula aggiornata e sempre più grotesca di lotta di classe, facciamolo pure. Se vogliamo invece fare una piccola, ultima cosa importante per questo Paese, cioè chiedere agli italiani se vogliono essere effettivamente guidati da governi di mandato con un programma e che rispondano in termini di responsabilità della loro politica con un capo, con un timoniere che abbia il timone, allora bisogna fare le elezioni sotto la neve e porre questa questione. Altra soluzione non c'è. A più tardi.